Bene, quest'oggi l'assistente segreto ci ha preparato una sorta di ristorante dove fare il nascondino sott'acqua Ovviamente mini-air and sick, quindi quando siamo piccoli 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 Ovviamente Ed è un posto davvero particolare Mette un po' ansia, Steph L'atmosfera è bella Cioè, perché guarda, ti affacci, vedi le piovre, è un po' Eh, che belli, pesciolini, veramente ci nascondiamo Non mi piace molto stare sott'acqua No, però pensa a una scena del genere Ok, tu sei nascosta, tu sei coraggiosa così Ti giri e c'è tipo uno squid che ti osserva Eh, no, no Sarebbe divertente Vedi, Steph, per quello ti dico che metto un po' d'ansia In ogni caso, avrai un'ansia in più, ok? Per cercare, avrai soltanto due minuti oggi Ok, più breve, più veloce Sì, 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 sarà un po' più difficile, saranno tre round a testa e dureranno soltanto due minuti Vuoi partire a nasconderti o a cercare? Eh, nasconditi tu Ok, vai, mi piace Ogni volta, eh Eh, mi piace sempre cercare all'inizio Va bene, va bene Sai che cos'è? Che io esploro il posto, ma ovviamente poi mi perdo sempre in giro Invece avere un round in cui cerco mi dà ancora più tempo per capire poi dove nascondermi io È tutta astuzia, Steph Ok, allora consiglini mi dispiace Tutta intelligenza Se non vi faccio vedere troppo alla prima volta, ma qua What? Ah, ok, aspettate un attimo Che è successo, Steph? Niente, qualche baghettino qua, la Ok Mi sa che stanno succedendo cose brutte, Steph Sento rumori Sì Che non mi piacciono Un nascondiglio che volevo fare non si può fare Ok Ok Passa al prossimo Esattamente Allora, il prossimo è qui Dai, ti lascio un po' più di tempo appunto Così Perché non conosci bene il posto, quindi è giusto che ti ambienti un minimo Ok Però non troppo, Steph Un pochino più, ma non troppo Vai, puoi partire Ok Due minuti avviati Non è male, Consolini, eh Non è male Quello che volevo fare l'avete capito Però purtroppo non potevo Quindi ce la siamo cavata con un nascondino Un po' più improvvisato Però che secondo me è carino Bene, come va? Sto cercando Sento dei rumori che stai anche controllando Ok Interessante, interessante Ci sta, ci sta Vuole controllare Aspetta, Steph, mi sa che Che c'è, Fere? Vedo la tua scritta, non so perché Davvero? Sì, e vedevo che lì qui sotto Perché? Non l'abbiamo mai vista Fere Cavolo, era bellissimo quel nascondiglio Non ti avrei mai trovato Lo so Sono molto arrabbiato E direi Lo so Quindi non capisco perché di punto in bianco Adesso vediamo le scritte Non lo so Lo so Non ho niente Se si è buggato a qualcosina Ok Ok Fatto, Steph? Sì, Fere Ok Allora, avvio Vai pure Allora, mochissà dove ti sei nascosto Ho dovuto giocare due nascondigli con un solo round Questo è un problema Perché il posto sembra grande Ma a livello di nascondigli non sono troppi Quindi Averne sprecati due Un po' mi pesa Stiamo comunque a vedere Grande ma tanti sono corridoi Quindi Allora Dimmi un po' Fere Che feeling è? Almeno ti sei iniziato ad orientare? Eh, un pochino sì Ok, meno male Quella è la cosa importante Perché se ancora ti perdi Eh, ma è difficile È molto dispersivo Quindi non sarà semplice trovarti Sì, perché ha dei corridoi belli lunghi Belli grandi Per osservare l'oceano Quindi Un po' ti perdi Io comunque Ho il vantaggio Che tramite questi vetri Riesco spesso e volentieri A vederti Anche se sei lontanissima Ok E quindi almeno So quando sei in zona Allora qui secondo me Vetri da cui tu mi possa vedere Non ce ne sono Ok Cambio zona Cioè usa Ciò che io dico Come indizio Vabbè sei tu che lo dici È ovvio che va sfruttato Un minuto su due È davvero poco tempo Due minuti eh È davvero 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 poco tempo Ok Allora Fere Come sta andando? Malissimo Davvero? È un problema eh Allora c'è Voglio fare un ricapo Già per i consulini Abbiamo il posto Dove c'è la fontana Il posto dove c'è il portale del nether Dove ho provato a prima nascondermi Si bugga Te lo dico già Il ristorante Il posto tipo dei magazzini Perché quelli sembrano magazzini O qualcosa del genere Sì sembrano dei magazzini E poi mi sa basta Sono quelle C'è la camera da letto La cameretta La cameretta È vero è vero Quindi sono cinque location totali Non sono troppe però Come avete visto Niente non ti trovo Passa e avanza Un minuto e trentacinque Venticinque secondi Hai gli ultimi momenti Esatto Un attimino Un po' Ti dico che rosicherai eh Eh lo so Come sempre No più del solito Ovviamente ti sono passata vicino Sì è finito il tempo Ma vicino è poco Dove eri? Interrompi Quindi una zero per Steph Ero nella camera da letto Dai davvero? Ma non solo Dove eri? Hai aperto dove io ero Tu hai aperto qua Ah ah Io ero Qua No Quello è un nascondiglio Se tu avessi aperto la porta frontale Mi avresti visto Invece avendo aperto quella laterale Io ero perfettamente nell'angolino di quella porta Un nascondiglio che avevo pensato pure io La prima volta che ho esplorato Beh certo è buono Ovviamente ti viene da pensarlo Però non sono andata a pensare che in effetti La porta Avresti Aperto Bastava aprire quella frontale Lo so Steph Perché non l'ho neanche fatta apposta Era solo il mio angolino Non ti ho visto lì Non ti ho visto lì Quindi ho detto Bah non ci sarà Vai fare bene a nasconderti Bisogna essere veloci Che sfiga che hai avuto Ah tantissimo Infatti io mi sono a porta aprirsi Ma ho detto Oh cavolo è finita per me Poi l'ho sentita zitta Ma non voglio andare qui Vabbè grazie Grazie Fer è molto gentile Quindi uno a zero per Steph Almeno così comunque ha funzionato Vedi non ho visto la scritta Lo so lo so Basta ricordarsi di tempo in muto contro Intanto stando fermi ci sta Hai fatto Fer? No non ancora Sono molto indecisa Eh l'ho notato Sei un po' in ansia Posso arrampicare qua Posso Ah questo è un bel posto Cioè ma tipo Vediamo Aspetta vado dove devo andare Perché sono piccolina Ok Ok ho fatto Vado Aspetta dovrei tenere premuto così E così non mi dovresti vedere Avviato il timer Vai Allora ci sono diversi nascondigli Che Steph stesso ha pensato Allora qua non credo che sarei dovuto entrare Direi che non sembra una stanza dove si deve entrare Quindi me ne esco subito No quella no Steph L'ho controllata È una Sì È il retro della cucina Non c'è nulla da vedere lì Sto vedendo Ok Un po' dove vai a cercare Ok Vabbè dai sarebbe stato troppo banale Sotto il tavolo è un po' eccessivo C'è una location banalissima Che io ho pensato qui Che spero che Fer non abbia fatto Sto sul divano? Esatto No vabbè Quello L'ho escluso anche io Perché era troppo ovvio Controllo che non mi copi I nascondigli geniali Non te ne ho mai copiato uno In tutta la nostra carriera E io continuo a controllare Di nasconditori e cercatori Steph Quindi non mi accusare Di cose che non sono mai successe Per favore Allora Erbetta sembra di no Anch'io l'ho controllato Cascata sembra di no A questo punto Avendo un minuto di tempo Ho capito la stanza Bisogna capire se farò in tempo Due minuti sono davvero poco Già 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 Rende molto difficile il cercare Allora Tu sei in questa stanza Devo soltanto capire In che punto Ti sei nascosta E in quale di questi Allora Ti sei nascosta Tra una cesta e l'altra Perché se io faccio così Eh sì Non farò mai tempo A controllarle tutte Proprio È matematicamente impossibile Quanto manca? Trenta secondi Steph Ma è un po' eccessivo lì Cioè Secondo te Devi stare contro La tutela cesta Eh Però tu sei in una di questi No? Mi stai un po' sopravvalutando Non sei in una di quelli? Non ti posso dare conferma Scusa Eh sì che puoi Comunque ti posso dire che Penso Perché sono ben nascosto Che tu non sia mai entrato Nella mia stanza Proprio mai Mai Ed è una stanza Uno pari Dove che voleri? In bagno Dietro lavandino Nella camera? Sì Non sei mai neanche entrato Ero qui dietro lavandino Lavandino Mi sono messa piccola Dietro lavandino Ci sta Non sei mai neanche entrato Quelle nascondire In quel posto Delle ceste Lo dobbiamo dare vietato No Steph Io non l'ho fatto Perché sapevo Che sarebbe stato Un po' sleale Perché con due minuti Non fai in tempo A controllare tutto Quindi direi di lasciarlo perdere Cioè se ti vuoi nascondere Nelle vicinanze Sì Però dai In mezzo alle ceste In mezzo alle ceste Non vale No beh lo davo per scontato Ti ripeto Vai Steph vai Non si sa mai Non si sa mai Oh mi sa che col mini Steph Non riusciamo mai a vincere Cioè non ci troviamo mai Ma te ne rendi conto Di sta roba? Sto ragionando Non vincere mai nessuno I can't do this Stiamo facendo nascondini Troppo difficili Nascondini in generale È troppo difficile Così piccoli Io me la rischio Ok vai Vai pure Ho paura Qua io sto rischiando Io sto rischiando Ta da ta 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 Steph Dai ti ho già visto È il bello È che stavo dicendo Non ci troviamo mai Sono troppo difficili Sai perché? Perché nell'ultimo Nascondino che abbiamo fatto Ok Nella casa Io ti avevo anche detto Ci si può nascondere Dietro i bicchieri Però ho notato Che diventano Totalmente trasparenti Quindi ci butto Sempre un occhio Ma sei totalmente visibile Ah Cioè sembravi Tipo l'oliva Dentro il cocktail Inizia a nasconderti tu Sono molto offeso Io pensavo fosse Geniale Che ti avrei trollato Povera Steph Povera Ma Quindi Ah non si può fare Siamo rimasti uno a uno Se adesso non la trovo Fere posta in vantaggio Perché ho fatto sta scemenza Perché non ci si può nascondere Nella stanza del Prendi danno Quando sei piccolino Lo so Lo so Ci ho provato Anche io ci sono rimasto malissimo Aspetta devo cercare un bel nascondiglio Come finale Come finale Sì perché ho vinto Ma non vinci Fere Sì che vinci No no La tengo in pareggio E facciamo un altro round Devo fare E' finita per te Allora Forse ce l'ho fatta Ti trovo Fatto Però voglio andare Qua Ce l'abbiamo in difficoltà Ok ho fatto vai Via No no è un bellissimo nascondiglio Non mi troverai mai Non ci credo nessuno Mai 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 Allora E vincerò tutta la vita Fontana niente Dai Stef nella fontana Affoghi Erbetta niente Continua a controllare i posti inutili Ok Ok Allora Qui Di nuovo qua sotto Niente Ok Qui Niente Qua Niente Devo essere velocissimo Vediamo dov'è Stef Qui dietro niente Qui sotto Devo controllarlo In modo un po' più veloce Ok Niente Magari nel boccale Stef Stai zitta Non sei divertente Quello è un buon nascondiglio Non sei divertente Non sei Un buon nascondiglio No Divertente Mi sto iniziando a preoccupare Mi sto iniziando a preoccupare Mi sto iniziando a preoccupare Allora Vedo il timer da qui peccato 54 secondi Ok Quasi un minuto è andato Quindi ho un minuto per trovarti Sono pochi due minuti eh Lo so Pochi Mi sta avendo l'ansia Eh lo so Chissà dov'è Fere Chissà dov'è Allora Devo fare una scommessa Verso me stesso Secondo me Non sei lì Non ho il tempo Di controllarla tutto Ok Secondo me sei Nella stanza del nether E non sei nascosta Dove si cade Ma sei nascosta No Steph No Sei totalmente fuori Cioè dall'altra parte Me ne sono già accorto da solo Ho 18 secondi Rispira Rispira Sei già stato in questa stanza Non è vero Sì No Sì E anche controllato Sei diventato piccolo Per controllare se io fossi lei Non mi hai visto lo stesso eh Non so come hai fatto a non vedermi Perché il mini adensiche è difficilissimo Lo so Però tu sei anche diventato piccolo E non mi hai visto Ero lì E non mi hai visto Ma dove Fatti a un certo punto Ho sudato a freddo Ma qua È finito il posto È finito il tempo Sì ovvio Allora lì non ci potevo andare Volevo andare dietro il pc Dietro la cesta Steph Ma dalla parte del vetro E praticamente Tu sei talmente piccolo Vieni qui dietro Che ti faccio vedere Che puoi salire nel bordo E quindi non ti vedi in terra E tu hai controllato Dall'altra parte Era quella La cosa Oh mamma mia Allora È stato bellissimo Ti sfido A due mini round Da un minuto Ok Facciamo Ci sto Dentro questa stanza Un minuto a testa Ok Quindi questa Anche il bagno Sì sì Tutto questo posto Dai Stai girata Sì sono girata Vai Che bello Questa volta Me la sono giocata bene Ti ho fregato parecchie volte Steph Stai pensando A diventare molto brava Quanto ci vuole Per nasconderti poco Dai Devono essere round veloci Fatto Vai Secondo me Usi la stessa tecnica Vai dietro il letto Aspetta Non riesce A diventare piccola Perché mi prendeva Aspetta ci riprovo Mi prendeva il letto E mi fa Non puoi dormire Mi dispiace 20 secondi passati Guardate quanto ci mette A controllare solo il letto Eh perché sei lento Non avrei rifatto questo vero No L'ho visto No non era Steph Cavolo Che paura Provi tu tutta la vita 35 secondi Sei in mezzo all'armatura vero Quindi non ti posso vedere Bene Avevi indovinato Dentro l'armatura Sì Eh ma non ti potevo vedere Appunto Pensavo di aver vinto così Eh vabbè dai Non sono troppissimi Nascondigli qua Steph È normale Vai nasconditi Sono molto feglie Pensavo di vincere Almeno la sfida Dell'1v1 Un buon minut Una cosa Che succede? No no Ce la sto facendo Sono versi tuoi Mi piace molto Mi piace molto Allora Secondo me non è un buon nascondiglio Però Vabbè Prova ad andare vai Vado? Sì Pronta? Non è un buon nascondiglio Vai Aspetta che devo avviare il timer L'ho perso Ok Avvio Sì È terribile Sto nascondiglio Pensavo potesse funzionare Ma siccome poi non ci volevo mettere Ma oltre a nascondermi Ho detto Dai facciamo così lo stesso Mi stai condizionando ridendo Non è giusto Non è giusto Poi c'è un minuto Che è super ansia Di sarebbe un bel nascondiglio Secondo me Cioè non c'è Quanto sei? Mancano cinque secondi Tipo Vista Però dai Avevo quasi vinto Steph 56 secondi Come hai fatto a vedermi? Eh vedi Si vede Solo per il tipo di skin che hai Cioè quasi stata marrone Era la fine È ovvio Ma non posso cambiare skin al momento Che figo come ti sei lanciata Ok quindi Pareggio sulla sfida dell'un minuto Ho perso sulla sfida normale Perché ho provato a nascondermi Dentro un bicchiere Ok ci può stare Ci può stare Però non ero molto in forma oggi È notato Devo dire che non sono stato un gran che Sì Sì Invece io stavolta sono andata alla grande Sì Ho fatto Sì Non giochi mai così bene Che non li faccio mai in vita mia Però oggi Evidentemente il posto mi ha ispirato Ben a scondigli Comunque Consellini Fateci sapere se vi piacete questa mappa Magari proponete Location dei prossimi nascondigli Mini Hide and Seek Perché è l'altro Quello di quando ci trasformiamo Di solito facciamo un po' cose naturali Dove ci sono alberi Montagne e così via Mentre in questo facciamo sempre costruzioni Quindi proponeteci Un po' di luoghi Dove ci vorreste vedere e nascondere E ci fermiamo così